Stiamo andando a Courmayeur, vediamo la neve dappertutto che già si è sciolta un po' perché purtroppo la stagione della neve quest'anno è un po' deficitaria, sui bordi di strada resiste invece tranquillamente anche di qua in mezzo un po', questo dovrebbe essere il passo del Brenner se non sbaglio non sono molto ferrato sulle strade, scusate, guardate guardate che schifo, cioè non si può neanche andare a sciare, cioè tutta sciolta, ma quest'altro lato invece già qualche discesino ancora ti può fare, tanto questa cordo arte del 67 mi passa a 180, speriamo che c'è questa arzale, questa strada, vabbè, comunque questa Aurelia, la porta di Roma, dopo due giorni non neve che ancora sta così, parte di Sappia sembrava di stare a Gran Sasso proprio, perché qualche dirigente che viene dalla Tabbia, ma se la Tabbia, non la neve, tiene per dargli il monte in Nevado, a mio mano, non c'è nessuno, è bella pista qua, questa è una pista nera, vabbè, te li saluto, arrivederci!